Nel precedente servizio vi avevamo mostrato il parco della Burcina prima che i rododentri fossero fioriti. Le immagini che vedete sono state girate verso la metà del mese di aprile e il parco appariva così. Le piante non erano ancora fiorite qui. Mi trovo sul sentiero dei rododentri e sto sovrastando la conca dei rododentri, come potete vedere in basso. Ci sono tutte le piante, tutte le piante, tutti i rododentri in procinto di bocciate. Maggio è il mese della fioritura. Le immagini che seguono invece sono state girate nella prima settimana di maggio e come vedete già i rododentri sono fioriti. Questo è lo spettacolo che si offre al visitatore. Un'esplosione di colori e di profumi che solo nel parco della Burcina potrete sicuramente vivere. Ecco su un'esplosione di arpasso esplosione di limpie. Un'esplosione di terra. Rododentri in fiore Siamo posizionati sulla conca del Rododentri Adesso ci troviamo sotto la conca del Rododentri Lo spettacolo che si è presente è davvero straordinario A questo punto non ci rimane che salutarci E rinnovare l'appuntamento al prossimo video Grazie Grazie